Eccoci al solito angolo tra scienza e fede. Oggi pure è stata una giornata abbastanza impegnativa dal punto di vista mentale, perché la migliore cosa nel caso in oggetto è tenere la mente impegnata. Io la impegno con la ricerca, con la matematica, con la ricerca scientifica, in modo che comunque non sto mai, avendo uno scopo, non sto mai a pensare soltanto il male che mi ha colpito, a parte la famiglia, i figli. Niente, volevo dire, prima di tutto ringraziare dei vari commenti che mi giungono di solidarietà e che praticamente notano come questo mio reagire sia forse il miglior modo di combattere contro questa, diciamo, patologia neurodegenerativa. Ma a parte questo, si parla spesso di Dio, se crediamo o non crediamo, chi è ateo, chi è agnostico, chi è uomo di fede o donna di fede. Purtroppo la società in cui viviamo è una società che pian piano si sta corrompendo. Non esistono più i valori di una volta. Io sono stato sempre un teista, un uomo di fede, e la scienza mi ha avvicinato alla fede, non mi ha allontanato. la malattia ancora di più. Ma non perché sono stato colpito da una patologia invalidante. Mi ha fatto assaporare di più la vita e pensare agli altri che possono fare ancora quello che io non posso fare più. Non con rabbia, non con invidia, con gioia. Io dico, bene, fatelo. Fatelo perché tutto ciò che non si fa, poi si può pentire di non averlo fatto, sempre con moderazione. Il segreto di tutto è la moderazione. Essere parchi, cioè non esagerare, non eccedere. Voi volete andare a mangiare, volete andare al ristorante? Fatelo. Non eccedere. Volete andare a mangiare, prendere pistola? Fatelo. Senza eccedere. Tutto, fare tutto senza eccesso. La cosa però più importante da fare, qual è? Fiducia, volontà, amore. Avere fede che la vita non è questa. Questa è una prova, una sorta di palestra. Questo è solo un involucro, questo corpo che vedete, no? È dentro il nostro vero io. dobbiamo chiamare anima, corpo astrale, spirito. Così come puro spirito è colui che tutto ha creato e colui che diviene e che fa divenire. Diciamo il creatore di ogni cosa, un Dio immanente e trascendente, il cui pensiero diventa forma. E io come matematico, come studioso di scienza, dirò sempre la stessa cosa, cioè come diceva Ramanujan, grande matematico, grande matematico, che io studio, la cui matematica mi affascina e mi fa andare in essasi quasi, ogni equazione per me non ha significato se non esprime un pensiero di Dio, anche un valore, ma soprattutto un pensiero di Dio. Vedete l'equazione di Maxwell, per esempio, alla base del campo elettromagnetico e della prima teoria di campo, che unì elettromagnetismo e luce. La luce è l'onda elettromagnetica, l'onda elettromagnetica, praticamente, pioggia alla velocità della luce. Quindi luce e elettromagnetismo fanno parte del campo elettromagnetico. E la luce è una costante, 300.000 km al secondo circa, 299, 792, 458 ms. Secondo, anche questo è un qualcosa di straordinario, la calibratura dell'universo, cioè l'universo ha delle costanti matematiche e fisiche ben calibrate. Guai a spostare di qualche decimale il valore di queste costanti, non avremo l'universo che conosciamo, o meglio il multiverso. Io credo nel multiverso, un multiverso eterno, che esiste, è esistito e esisterà sempre, così come colui che l'ha creato. L'infinito è l'eternità. Il tempo l'ha creato l'uomo. La misura, lunghezza, larghezza, altezza, tutte cose che nell'infinito e nell'eternità non esistono. L'eternità è l'assenza di tempo. L'infinito è l'assenza di ogni misura. Laddove non ci sarà più il concetto di misura e di tempo, lo potremo vedere così come gli è, essere tutt'uno con Lui. Ci sono esperienze di coscienza cosmica, di persone e di esseri iniziati, che praticamente hanno sviluppato la capacità di vedere oltre il proprio, diciamo, la realtà materiale, la realtà sensibile, vedere quello che è l'ultrasensibile, o, diciamo, questo regno di Dio, o la dimensione che è al di là delle dimensioni, sia esse le quattro dimensioni dello spazio-tempo del nostro cronotopo, sia le dieci e undici dimensioni della teoria delle stringhe, o dello spazio-infinite dimensioni di cui parla la matematica. Quindi al di là di questo multiverso di dimensioni e di un universo vibrante, una sorta di sinfonia cosmica, c'è questa dimensione spirituale, che è la casa del padre. Nella casa del padre mio vi sono molte dimore. Quindi non c'è più problema di spazio, perché non esiste il concetto di spazio, di lunghezza, di larghezza, di altezza. Non c'è più il problema di dire quando, perché se è eterno, l'eternità è l'assenza di tempo. Allora qualcuno potrebbe dire, cosa faremo? Beh, alla fine di tutto diventeremo un tutt'uno con coscienza cosmica, pur non perdendo la nostra individualità, e parteciperemo come coordinatori in un prossimo ciclo d'universo, perché l'universo esiste, è esistito ed esisterà sempre, attraverso solo delle fasi, che noi chiamiamo Big Bang, ma sono delle fasi. L'universo è sempre esistito, esisterà sempre ed esiste. L'universo è, come Dio, è, io sono colui che sono, disse Mosè, dirai, io sono, l'universo è. Ecco la trascendenza e l'immanenza del creatore di ogni cosa. Comunque, ritornando alla matematica, la matematica mi sta, diciamo, portando, forse sto pensando di più adesso, visto che sono in questa condizione di quasi immobilità, che qualche anno fa, che insomma, erano, si può dire, in piena attività. Chissà, forse anche questo, ricordiamoci che ognuno di noi ha una missione da compiere. Una volta compiuta la missione, si torna a casa. Quindi, non abbiate paura. Siete soltanto sempre pronti, perché non sapete il giorno e l'ora. Non sapendo, bisogna essere pronti. Essere pronti significa condurre una vita impegnata sull'amore, sul perdono, sulla volontà e la fiducia. Abbiate fede. La vita non è questa, non è solo questa. Non guardate solo il male, guardate il bene. Ce n'è tanto di bene. C'è anche tanta malvagità, tanta cattività, ma c'è tanto amore. Guardiamo l'amore, guardiamo un figlio, un bambino quando nasce, la vita, il dono della vita, anche la mia, e anche di delle persone che stanno peggio di me. Siate in letizia, vivete in letizia, vivete nel mondo con la mente rivolta a Dio. Questa è la migliore cosa da fare. E cercate di amare e perdonare. Non portiamo asti o rancore per persone con cui ci siamo litigati. Perdoniamo. Amiamo. A questo sapranno che siete i miei discepoli, che mi amiate l'un l'altro come io vi amati, disse il Signore. Allora, noi cerchiamo di fare questo. Perdoniamo. Non rimaniamo male di un qualcosa che ci viene fatto. Non rimaniamo male di un torto subito. Non guardiamo la pagliuzza che è nell'occhio del nostro prossimo quando in noi c'è una trave. facciamoci un esame di coscienza. Non giudichiamo, non saremo giudicati. Perdonare tutti indistintamente anche i propri nemici. Ossi, io l'ho fatto. Ci sono riusciti. non ci vuole molto. Bisogna avere molta fede, molta fiducia, molta... Ma viene da sola, piano piano cresce. Lui vi attira. Lui ci attira a tutti. Lui ci chiama. Quale padre vede un figlio che soffre e non soffre anche lui? Pensate che che Dio il padre il creatore di ogni cosa ama vedere l'uomo soffrire. Non è un dittatore. Ci lascia liberi di scegliere. Larga è la via che porta alla perdizione, stretta è quello che porta alla vita eterna. Ma chi è la via, la verità e la vita? Gesù. La sua parola. La sua parola qual è? Il Vangelo. E' il Vangelo su che imperniato. Che messaggio reca? Un messaggio di amore. Amare. Non c'è più cosa più bella che dare la vita per un proprio amico. Noi diamo la vita per un nostro amico. Oddio. Dire e fare non è semplice. una cosa è da dire e una cosa è farlo. Vi posso solo dire che ci si riesce dopo anni, anni e anni di meditazione, di pensiero, di riflessione. Quando personalmente un giorno vi racconterò la mia storia un po' più dettagliatamente, ma sappiate che lui mi ha prima messo a terra, a terra, da che io avevo tutto, non avevo più niente, più nulla. una volta che sei così o capisci o diventi più cattivo. Ma questo dipende sempre dal nostro destino, dipende da noi, dipende da tante cose messe insieme. sì, io sono andato prima avevo tutto, non mi mancava niente, adesso non c'è nulla, c'è solo la famiglia che mi vuole bene, la mia passione per la scienza che mi ha aiutato ancora di più a credere e a avere fiducia in una vita e in un mondo migliore, che non è questo, questo è soltanto una palestra, un qualcosa per imparare, imparare che la vita non è solo gioia, non è solo gioco di potere, non puoi servire tra i tuoi padroni, Dio o il denaro, Dio o il potere, è perdente questo modo di fare, non vive l'uomo soltanto di mangiare, di cibo materiale, ma anche di cibo spirituale. si vede un po' che si trema questa cavolo di mano, non posso farci niente, l'importante è che il messaggio venga trasmesso, questa è la cosa che mi mi paremi di più, quindi vi do una buona notte, al prossimo video e che il Signore illumini i nostri cuori. Alla prossima, grazie.